Ruben, salve, isi la cupo, che nos bendica talà, aderebbe che nel truppo, ruben per te nostre plan. Pupo santo, e del santo, bell'ya plenpon, bell'ya d'ordis estrammol, e nell'avanz tifon. Pupo santo, e del santo, bell'ya plenpon, Pupo santo, bell'ya plenpon, bell'ya plenpon, bell'ya bortis estrammol, e nell'avanz tifon. Permanori lute l'aere, ma trafic che sia sponcet, Permanori lute lute, Soseli, lui è un allemand, effettivamente, e ainsi di suite. Mesdames e Messias, Michel Dallant m'a marqué a coté, e patati e patata, Permanori lute lute, a castellare che diventera per tutti i provvedi saudi di guerre, un oratore che ramentara per le generazioni avvena d'ruir, Sochè Fuguer, Liliam, Entreguer e Frédéric Mistra. L'uppuet venguet tresco di nostro piccote ville, a 1869, e lo doutor Jean Bayeo, festo che le cronicae reddittain che vi presenta spettacoloso, che è il trezzo in cor, è in 1902, per una campanella di mantenenza delle province di Filipprige. Voi, attraverso questo luogo, vogliono marcare di la paio, ma una causa per la nostra memoria. D'un primo, ramentare che, in un tempo, c'è una guerra posto di gente che si riempia in Pomenzao, e che aveva seguito il piatto del maestro di Mayara. Espere tutti che venivano qui in pensato, e sarebbe troppo da lunghe necessità tutti, e mette il dendere della vita in suo mondo. Che è, per mostrare a quelli che potrebbero trattare di integrista, la benevolenza del municipio di Bouguere, la Leisa in Pomenzao, marcarà l'estaclamare del popolo di Deguere, il y a cento anni, e rient a la fin del mondo, di un siècle, di un viaggio di Deguere, azar, astra, di un nome di un genio. Particare su un presso complico, recluiti per ciò che faceva la vita di Babilan. L'amore del popolo di Deguere, di un'amore del popolo di Deguere, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.